Corro del pianeta dominante si situa in uno scenario che si sarebbe tentati di dire post-apocalittico e tuttavia a tratti appare semplicemente ultra-contemporaneo o iper-quotidiano. Ma noi, di che specie siamo? È una domanda meravigliata, senza punto interrogativo, una stupita constatazione di ciò che siamo diventati. Appare come un senso di resa, che è anche resa dei conti, per cui è finito il tempo della lotta, difesa e attacco, e inizia un tempo di adattamento silenzioso. Silenzio e ombra ricorrono nell'intera raccolta, silenzio desolato, che è anche nuovo spazio urbano, spazio di recupero dello sguardo. Vorrei citare qui alcuni versi dalla raccolta. Ma è anche bello il senso del silenzio, che c'è qui attorno, tra questi spiazzi, quasi abbandonati, che sono reami di inconsistenza. L'inconsistenza è segnalata dalle ombre, e dal disfarsi oscuro e intimo di strutture animate e inanimate, e al contempo dal disfarsi del confine tra queste due dimensioni. La vita non finisce morendo, ma semplicemente termina. Si torna alla chimica, biologica e industriale, fino allo svuotamento delle sovrastrutture di senso umanistiche. Si torna al respiro, come ampiezza, che definisce la vita. In questo sguardo disilluso, ma mai arido, si rispecchia un linguaggio che sembra tentare una decostruzione di senso e di sensi. Negli esiti è il recupero del significante minimo e originale, della lingua come semplice propaggine della biologia umana.